È stato molto carino e interessante, soprattutto ho imparato nuove cose e poi dare vita a un personaggio è una cosa davvero particolare Il caviale non l'ho mai mangiato, però amo i bagni anch'io e mi piace anche a me la grande musica Non so se l'ho mai scoperto, ma da piccolino ho iniziato a suonare la chitarra e poi da lì è partito tutto Quindi penso da piccolino Sì, mi è capitato, io sono stato nella casetta di amici e lì ho trovato una grande famiglia Che non è oggettivamente la mia famiglia, ma che lo è diventata sia i miei compagni di scuola e di casetta E anche quelli della produzione Quindi sono anch'io del parere che famiglia non è solo una parola, ma anche un luogo Comunque anche delle persone che non lo sono effettivamente Sopra il tetto del mondo sei, non servirà a nasconderci